Dotti il benvenuto nella nostra città a Vekaslav Cegatognev, una presenza importante e rappresentanza dell'aeroporto di Odessa, di quell'aeroporto che è bersaglio, così come l'intera Ucraina di questa assurda guerra della Russia di Putin. Accogliere questo ospite è una conferma della nostra cultura d'accoglienza, ma anche una conferma della vostra solidarietà. È anche un modo per immaginare e preparare il dopo guerra, quando finirà questa assurda guerra, attualizzata anche da veri e propri crimini di guerra, e quando finalmente l'Ucraina potrà tornare a essere quello che merita di essere con un popolo che sta dimostrando una straordinaria dignità nel difendere la democrazia e i diritti. Buongiorno a tutti, mio nome è Vekaslav Ceglatonev, sono solo un popolo città dell'Ucraina, sono un popolo città dell'Ucraina, un popolo città dell'Odessa e, prima di tutto, voglio direttare la mia e la nostra gratitudine a Palermo città e, personalmente, a Mr. Luka, è un popolo città dell'Ucraina, un popolo città dell'Ucraina, un popolo città dell'Ucraina, per la nostra libertà e siamo davvero assicurati con questa attenzione per noi, sentiamo che è un grande supporto di nostri italiani e sicuramente, ci saranno. Grazie a tutti i città di Palermo, di Italia, gloria a tutti i amici di Ukraine, e gloria a tutti i palermo città.